Sono come il vino, più invecchiano più sono meglio, meglio della prima volta. Sono sempre più bravi, quindi io buzzerei di nuovo. Se sta veramente bravo, se sta... Mirko, disgrazio di me, ha detto. Sì, perché mia sorella sta con lino bambi. Te l'avevo già detta questa cosa, io avrei voluto darti il golden buzzer. Sono contento ovviamente del mio, però sei bravissimo, fai ridere e poi hai mille cose da dire. Credo che questo non sia solo legato allo sport e ad avere un enorme talento, ma sia quello che fanno gli artisti. Ti confesso che qualcuno sui miei social, perché commentano, su Facebook, diceva ma ragazzino l'avete passato, ma poi è così talentuoso. Sì, se fossi vento il tempestere, il passero solitario. Ah, se fossi acqua la negherei il passero solitario. Se fossi Dio, mandereilo in profondo. Un ritmo incredibile. Poi vi cimentate mille cose diverse e le fate tutte malissimo. In un momento come questo, dove i muri si costruiscono, buttarli giù è una figata. No, alla prossima volta veniamo io e Nina a fare le poiane. Una delle cose più strane che io abbia mai visto nella mia vita. Io avevo solo una certezza. Tu, questa sera, su questo palco. Grazie. Vedere la bellezza finalmente e la poesia è una roba così rara che dobbiamo fare non un applauso, un super applauso. Sono felice che siamo riusciti a portare in questa finale dei sapori diversissimi dall'altro e tu dovevi esserci. L'ultima volta che ho avuto una crisi d'ansia è stato nel momento stesso in cui dicevo l'ultima volta che ho avuto una crisi d'ansia. Dove sei stato tutto questo tempo? Io faccio sempre dei sogni che mi rubano la macchina, che mi scappa la pipina col bagno. Invece Giulia fa sempre dei sogni così meravigliosi. Sono fierissimo, contentissimo di aver dato questo Golden Buzzer sull'entusiasmo. Vince l'edizione di Italia's Got Talent 2017 i 3 Jolies! Complimenti ai 3 Jolies! E facciamo un applauso anche a tutti gli altri concorrenti di questa finale! Bravi! Bravo!